Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori. Malure improvviso perde la vita a soli 26 anni. In questo video parliamo di uno straziante fatto di cronaca che ha strappato alla vita la giovane studentessa di appena 26 anni. E prima di farlo vi ricordo che a 500 like pubblicherò immediatamente un nuovo video. Sulla seconda di Marco Liguori abbiamo definito il 2023 come l'anno dei terremoti in misura minore. È stato anche l'anno dei tanti malori improvvisi. L'ultimo è stato quello che ha colpito Laura Borina, 26 anni, studentessa dell'Università di Venezia. La ragazza ha avvertito un malore, stando a quanto riportato non riusciva più a parlare dopo essere stata trasportata in ospedale, sfortunatamente, ha perso la vita. Seconda di Marco Liguori fa le più sentite condoglianze alla famiglia di Laura Borina che, come detto, è mancata a soli 26 anni. Diciamo anche che il PM della Procura di Venezia, Giovanni Gasparini, ha disposto la raccolta delle cartelle cliniche e valutò l'autopsia per scoprire cosa sia successo realmente, amici di YouTube. Io vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video.